Nell'opposizione il Movimento 5 Stelle prepara la battaglia in aula. Arriva in aula la legge elettorale. A quanto pare serve soltanto ad eliminare il Movimento 5 Stelle. Noi invece lotteremo affinché non abbia gli stessi profili di incostituzionalità del Porcellum, ossia i listini bloccati e un premio abnorme di maggioranza. Questo lo faremo per il bene dei cittadini italiani.